Il comandante è pronto a parlare. Sangue chiama altro sangue. Per alcuni dei miei questo non basta. Vogliono che l'assassino soffra come tradizione impone. Ma non sanno che la tua sofferenza sarà più grande. Quello che hai fatto stanotte ti perseguiterà per sempre. Comunque ci sarà un risarcimento. Il corpo verrà consegnato agli abitanti di Tan Si e il fuoco unirà l'assassino e le sue vittime. Soltanto allora arriveremo alla pace. No, abbiamo fatto abbastanza. Il ragazzo avrà la nostra sepoltura. Abbastanza? Ci spettava il dolore di 18 morti. Ci spettava una giusta esecuzione. Il mio villaggio merita giustizia. Non cercate giustizia. Volete solo vendetta. Non sapete cos'è la mia vendetta? Lo faremo. Ma poi parleremo di come liberare la nostra gente da Mount Weather. Tutta la nostra gente. Vogliamo le stesse cose, Clark. Perfetto. Quando partiamo? Subito. Scegli i tuoi uomini. Clark, non sei costretta a farlo. Sì che lo sono.